Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per maltempo in A1, per nebbia banchi tra Pian del Voglio e Aglio, per pioggia in A1 tra Chiusi e Ceprano e in A12 tra Pisacentro e Rosignano. Uno sguardo al traffico ferroviario per perdita a punto informativo, i treni 66-36 a Rezzo-Firenze-Santa Maranovella e 11-658 a Chiusi-Cianciano Termo e Firenze-Santa Maranovella stanno viaggiando con un quarto d'ora circa di ritardo. Ultima pagina per il traffico navale per maltempo. Segnaliamo che sono cancellati i traghetti Piombino-Rio Marina delle 8.20 e Piombino-Cavo-Porto-Ferraio delle 8.40. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!